Non sei uguale a Team The Tatman, con qualche chilo in meno, e con una mano in meno, la destra. Vedete, manca la mano destra. No, perché mi devi offendere? Let's get it guys, se vuoi acquistare Skin e V-Bucks, mentre supportare il power of the nazionale, ricordatevi che potete scrivere Fnatic trattino in mezzo, power, scritto ovviamente col 3 al posto della E, in supporto a un creatore, lo trovate in basso a destra, nell'item shop di Fortnite. Ogni tuo futuro acquisto su Fortnite supporterà anche me, e vi farò degli splendidi, ragazzi. Eschire boys. Tanto sono mancino. Che cazzo di tossici che siete? Siete la ciotta più tossica del mondo, cazzo. Non hai visto il fazzone, per favore. Aspetta. Non hai visto gli altri, già. Fai giù. Oh. Ci sei? Oh, sì. Ma ora mi è entrato sotto casa. Bucalo. No, che buco. C'ho paura. Aspetta. No, Marzo. C'è un pompa, se vuoi. È uscito fuori. È scappato fuori. Forse è casa della nonni. Fatto. C'è un altro qui sotto. Fatto. Guarda che qui sotto non ho cati due. Non ho cati due nella casa nuova. Marzo, se vuoi andargli a cacciare, hanno il pump. Poi c'è l'ho il pump. Io no. L'ho biglietta lui. C'è pure un R blu. R blu. R blu. Arrivano. Marzo, ho bisogno di una mano. Mai come ora. Ho lasciato il mio pump a terra. L'ho preso, 30 di danno. 19. Guarda che danno di me non ho fatto. Fatto. Mo' lo vado a piegare quello. Guarda, ho due di vita. Mi devo ripiare la mano con la stretch. Non ce capisco in caso. Il pump a nuova l'hai preso tu? Sì, assolutamente. Mi devono le bandage. Eh, aspetta. Guarda la mia vita. Arrivano, eh. Ammazza. Eh, non me ne ero accorto. Ma allora te le trovo io. Marzo, need anyone. C'è la cassa? Ho un slurp. Allora, quello è uno, serve altro. Allora, prendi... Ho delle pozzette, io. Bene, bene, bene. Mo' lo troviamo le altre, troviamo le altre. Aspetta, non te lo tirare. No, sì, sì. Perché mo' fai piano. Ehi, gente, gente. Dove? 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 Porco, due mi hai messo il muro in faccia. C'è l'amico dietro? Oh, se ti entra il nosco, urlo, eh. No, uno di vita, uno di vita. Non mi finire. Non ci credo. Ti ha finito. Perché devo non fare capito? Ti ha finito. Ah, italiano, che è tebola. Ma avete sentito con quale cattiveria l'ha detto? No, no, me fanno ruote il culo. No, perché poi finisce i video di YouTube e ci mette da qua sicuro. Vaffancon, li putto giù la madre. Con quale cattiveria gliel'ha detto? Ah, italiano, allora che è tebola. Ma il bello è che io gli ho noccato l'amico e mica gliel'ho finito, soccorso da te. Pobbando tutti Matteo dalla chat. Ma, ma, ma è per forza, è per forza. È comprensibile, è magica. Ho ucciso Marta. Sì, sono un pro player. Sono un pro player forfnatico. Ho ucciso Marta. Anche io mi muto. Fatti cazzi tuoi. Lui è da solo. Ti vede, cazzo, vai più giù, vai più giù, vai più giù. Ti vede. Bravo. Sì? Mamma mia, questo io sono entrato dentro, eh. Oh no. Mamma mia, come mi arrapi. Una pompata diretta. È di da me, oh ma... È di da sto cazzo. Oh sì. Che coderiso. Anzi, ma il 200 di danno. Mamma mia, te non stavo in live con te, ragazzi. Sfiniva il mondo. Però vedi, sono io che ti calmo, perché evito che tu bestemmi, è così e ti devi tranquillizzare per forza. No, ma prima non c'è. Mi capitava sta cosa nel forno di P18, era la fine. C'avevo il monitor a metà. Allora, mi fosse capitata. Mamma mia, che rompi il capo. C'è sto braccialetto di Twitch che mi sta cominciando a dare un po' fastidio. Molino. Quello viola? Sì, c'è ancora la plastica addosso, l'ercia. C'è ancora un po' del sudore di mollo. Ehi, ho sentito lancia granate. Pog champ. What? Quello? No, si è spusato. Chi mi ha spazzato? Anco. Quanta gente c'è? Sei in mezzo, vuoi. Oh merda. Ma l'ho preso? Parato? Buffon. Oh mio Dio, no. Oh che tiri via quello dietro, eh, oh. No! Madonna, che c'è via. Guarda quanta gente c'è! Oh bello! Ma quello l'ho preso dopo un'ora. Sì, sì, però l'hai preso. Vabbè, che segreto? Sono 300 metri. Scendi, fai qualcosa. Bello! Aspetti la petana. Non ce l'ho. No. Oh sì, oh sì, oh sì. Bravo. No scu. Ti ha giocato co... Con l'Hydro Mars. Sì. No, merda. Bravo. Prendi danno? Che no? Vai, 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 vai. Che ne ha pompato, è uno è tuo, eh. Ma buon, nani. Eh, oh, sei diventato un mostro, Gio. Prima facevi cacare per un periodo. Ma ti sei ripreso. No, un po'. 1v1 situation power looking for the last man standing. Let's go, let's see what power is going to pull out here. Oh my god. E' tu, è tuo, è tuo, è tuo, è tuo. Sì, è di da sto cazzo, Kikko de riso. Questo è per Matteo, lo stream sniper. Dab, 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 dab. Dab, dab. Dab, 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 dab. Oh, sì, Giorgio. Ma come cambia spacciatore? Scusa, Filippo Moro, ma se una roba ti manda così, vuol dire che roba buona. No, cambia. Dammi il tuo spacciatore. Dammi il numero. Dimmi il numero. Assolutamente? Assolutamente. Perché ti ha scritto iscriviti. Dopp, 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 dopp.